Musica non si può stare un po' prima di lei ma è... si, si vada ma tu mi ne si come la tratta e siccome la tratta questa costa è una, ci vuol dire, una piccola non la farà di salta quando la via doveva andare via la 5, non so se è andata via la 6 ma non so se è andata via la 6 ne vede l'ordissimo e no, quando si era cominciato no, non vengi a passare le preghi non troppi i chiudati la velocità è stata veloce è molto più è stato un po' il sangue non lo so il puo in sé in sé in sé mi viene guarda che è bella aspetta, 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 ce la faccio no, ma anche da qua ah, che pentacolo ristorante, in quanto la distro, il senore mi sembra un po', quel calmamento ma la differenza è così c'erci sale a presto è un'altra puntata che è un'intenziale, perché guarda qui, guarda, che si è come mia madre, guarda, ora naturalmente ne esiste, c'è altro, diciamo, anche meglio possiamo andare in realtà azzalati con tutti i problemi che abbiamo, i ponti, il tracinico, i primi, eccetera, ora sarebbe un problema, non è che il nostro, non è che il nostro, non è anche lei, è un'intenziale, infatti quando non ci sono io, metto da sicura, dire, perché poi hai bisogno che sia dappurre a casa, non è che la mia madre, non è che la mia madre, a, baga mano, hugo, 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 huo, un'intenziale, rai, try�, ma chi sono scendia, sì, cari e l'onine, che ric le contribuiscono a 키, volevo si ric pitche al lese, arrivano ciao, tagliare ur Growing Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.